Dalla nostra Barbara Di Palma, ciao Barbara, sei in diretta, continuo le ricerche di questa ragazza, una giovane ragazza di 18 anni che al compimento del suo diciottesimo anno di età sarebbe dovuta convolare a nozze con un uomo che non amava e costretta per tutta la vita ad un destino crudele. Sì Eleonora, questo è un dettaglio veramente che lascia riflettere perché Saman ha compiuto 18 anni il 18 dicembre e il 22 dicembre erano state fissate queste nozze combinate dalla sua famiglia con un cugino che vive in Pakistan. Saman si è ribellata al suo destino e secondo gli inquirenti è stata condannata per questo, per essersi opposto al volere della famiglia ad una tragica fine. Le ricerche continuano incessantemente tutti i giorni, cominciano all'alba perché qui le temperature sono veramente molto elevate, sotto le serre arrivano fino a 50 gradi, sono appena concluse le operazioni di carotaggio che continuano tutti i giorni. Sono praticamente dei piccoli fori che si fanno nel terreno con uno strumento che viene chiamato chiodo che è lungo un metro. Questo serve perché quando poi domani ritorneranno i cani molecolari possono essere facilitati nell'annusare eventuali resti organici, i resti purtroppo della povera Saman perché a questo punto si cerca un corpo. Eleonora si parla di omicidio premeditato perché abbiamo mostrato le immagini delle telecamere dell'azienda agricola che mostrano questi tre uomini della sua famiglia, quindi uno zio e due cugini, mentre prendevano degli attrezzi che presumibilmente sono serviti a realizzare una fossa nella quale occultare il cadavere della povera Saman. E secondo chi investiga l'area potrebbe essere questa nella quale noi ci troviamo. Questa buca potrebbe essere stata fatta sotto una di queste serre. Volevo farti vedere, questo vedi c'è un tappeto termico che è lungo, copre tutta l'area delle serre. Le serre sono lunghissime, come vedi, quindi controllarle palmo a palmo è un lavoro davvero certosino, un lavoro lungo. I carabinieri stanno facendo un lavoro eccezionale, i carabinieri della compagnia di Guastalla, coordinati dal comando provinciale di Reggio Emilia, lavorano incessantemente dall'alba fino più o meno a quest'ora e poi riprendono al tramonto. Considera che le controllano ogni 30 centimetri, fanno un carotaggio ogni 30 centimetri. Quindi è un lavoro veramente molto importante. Naturalmente si è partiti da questo punto perché, guarda, giriamo la telecamera, siamo proprio alle spalle dell'azienda agricola. Dietro questo capannone ci sono le telecamere che hanno fatto quelle riprese. Si fa sempre più concreta, Leonora, l'ipotesi della premeditazione, non soltanto per questo video che abbiamo mostrato, ma anche per l'acquisto di questi biglietti. Biglietti che hanno permesso ai genitori di Samanna di fuggire dall'Italia e rifugiarsi in Pakistan. Biglietti che sono stati acquistati qualche giorno prima del 30 aprile, cioè il giorno in cui si sono perse le tracce di Samanna. Biglietti che sono stati acquistati all'aeroporto, vedete queste immagini. Ecco, tu hai intervistato una persona che conosceva quest'uomo e le dichiarazioni sono veramente pesanti perché dice da un anno, stiamo parlando del papà di Samanna, da un anno aveva cominciato a bere. Da quello che vedevo non era più a posto. Questo dice nel racconto, questo è il titolare di un negozio di alimentari, che vedeva il papà di Samanna andare lì a fare la spesa e la moglie a fare la spesa non c'era mai. Cioè probabilmente questa moglie non la portava in pubblico. Ascoltate, ascoltate, ascoltate. Gli abbassi non hanno un'auto. Questo l'abbiamo detto più volte. Quindi sta lì e lì, ascoltate. E lì, Samanna. È una cosa sì, veramente scioccante, perché nessuno può aspettare questa cosa qua. Un padre che amasse suo figlio o la figlia. Non immaginavo che può essere una persona così. Da un anno che lui ha cominciato a bere. Quello che vedevo non era posto. Lei ha notato che beveva da qualche comportamento in particolare? Sì, sì, sì. Era un po', diciamo, irritante. Se qualche persona diceva qualcosa, cercava sempre di litigare. Quindi era diventato irascibile? Sì, diciamo, questa cattiveria che ha preso il carattere. Non tanto tempo fa, però. L'anno del 2020. Aveva notato questo cambiamento? Sì, perché prima veniva, di solito, era normale, come le altre persone. Mi ha chiesto lui aiuto. Desso, ah, che io ho problemi, così. In Pakistan ho bisogno dei soldi, quello che prendo devo mandare là. Conoscendo da 7-8 anni, ho detto va bene, c'è la famiglia, i bambini piccoli, prendi qualcosa. Lui faceva la spesa 4-5 volte, lui mi è arrivato quasi 500. Dopo io ho detto, guarda, adesso basta perché anche io, nei problemi, devo pagare i formitori. Guarda, questo mese ho il problema, prossima vostra paga vengo. Dopo loro sono partiti dal Pakistan. Nel 2019 sono andati via nel mese di novembre. Sono tornati i primi di gennaio del 2020. Sono andati anche i figli in quel viaggio con loro? Era padre, madre e la figlia, Saman. Poi, dopo di estate, ho sentito che sono andati ancora in Pakistan. Non sa se erano andati in Pakistan per organizzare queste nozze. Questo no, perché non sono stati fatti i biglietti da noi. Posso, Eleonora, far notare una cosa? Che tutto questo orrore sarebbe stato pensato e realizzato nell'interpretazione più orrenda e più selvaggia dell'Islam, che tra l'altro è stata condannata dalla comunità islamica italiana. Da una persona che, stando a questa testimonianza, stava nel frattempo infrangendo un'altra fondamentale regola dell'Islam che è quella di non bere alcol. Quindi è un paradosso assurdo. Grazie, grazie. Noi continuiamo a tenere aperta la finestra. Insieme a te, Barbara, continuano le ricerche. Come vedete, sul posto sempre i carabinieri, l'arma dei carabinieri e purtroppo tante telecamere. Nella triste attesa che ritrovino questo corpo, io veramente ricordo i primi giorni in cui speravamo tutti quanti che Saman si potesse essere salvata, ma giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, vedere quelle immagini delle telecamere, di questi due genitori che se ne vanno, che scappano, che stanno scappando, pensare a quello che ha potuto e ha dovuto vivere questa ragazza è veramente, veramente orribile. Ecco, per cui combattiamo insieme perché nessuna violenza sulle donne di nessun genere, di nessuna religione, di nessuna sottocultura, di nulla, di nulla possa mai avvenire. Ancora peggio di allora una battuta sola che lei aveva trovato il modo di salvarsi perché era stata decoverata, cioè nascosta, e poi, porca miseria, è stata ingannata, è stata ingannata.